studio tirri radiologia e diagnostica per immagini convenzionato con il servizio sanitario nazionale corso umberto 100 licata buona la prima per il nuovo licata inizia con un successo la gestione romano primi tre punti firmati già in aula al termine di un match molto combattuto ma connetta supremazia dei padroni di casa football club messina apparso un cantiere aperto esordio senza pubblico per il licata poiché la questura non ha autorizzato il piano sicurezza caldo asfissiante al dinoliotta con temperature oltre i 30 gradi partita molto spigolosa fin dai primi minuti con due ammunizioni entro il quarto d'ora primo tentativo del licata al quinto con un destro alto di ficarra al ventunesimo destro in corsa di mazzamuto su assist di aprile alto sulla traversa conclusione dalla lunga distanza al lato di calaiò al ventiquattresimo vantaggio del licata al ventottesimo con un esterno destro di gennaula che bagna col gol l'esordio in maglia giallo blu su pregevole assist di orlando al quarantunesimo il direttore di gara menozzi di treviso annulla a candiano un gol su pregevole calcio di punizione dal limite per una irregolarità nella distanza non osservata vicino alla barriera buon licata nei primi 45 minuti malgrado temperature davvero tropicali in apertura di ripresa è licata subito pericoloso con talla che si presenta tu per tu con selmi ma calcia al lato di un soffio sul secondo palo al 52esimo conclusione dalla distanza di aliaca bloccata da moschella ciccone disturba l'estremo giallo blu in fase di rinvio e si becca il secondo giallo lasciando in dieci suoi per oltre mezz'ora alla mezz'ora della ripresa il nuovo entrato minacori non trova la deviazione vincente sul primo palo ben servito da caccetta a 10 dal termine mister romano richiama il match win reggiannaula e fa esordire il maliano samakè all'ottantunesimo insidiosa punizione di candiano con palla che attraversa tutto lo specchio di porta ultimo flash al novantesimo con una clamorosa occasione per il delicata con samakè che a tu per tu con selmi calcio altissimo buona la prima dunque per il delicata che supera 1 a 0 l'fc messina e in camera i primi tre punti della nuova stagione si torna in campo mercoledì per il secondo turno di coppa contro la san cataldese studio tirri radiologia e diagnostica per immagini convenzionato con il servizio sanitario nazionale curso umberto 100 licata